E' che se mi metto frontale si vede in me, quindi devo stare attento e non mi si vede. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Good morning everyone! Questo è il primo video shooting mattutino. Sono le 8, no scherzo non sono le 8, sono le 10 e non possiamo fermarci. Lo stile di vita The World Winner è di scattare mattina, pomeriggio, sera, notte, sempre. Voglio andare un po' in giro? Chiara, mister, ben tu? Sei qui per sfidarmi anche oggi o c'è un po' di relax? Oggi relax. Ah, fino al mese? Oggi assimilo nuove tecniche. Qui andiamo a prendere un caffeino insieme, vediamo un po' cosa troviamo di interessante. Pronto? Oggi nuova missione. Qual è la missione di oggi? La missione di oggi è andare a prendere un buon caffè all'interno di una bella vetrina. E possiamo vedere gli scatti per i ragazzi da non vedere qualcosa di fotografio. Intanto voglio bervi un buon caffè. E poi se ne ragiona? E poi se ne ragiona davanti a un buon caffè. Vabbè, vabbè, ok. Osservare sempre ragazzi, osservare first, infatti non ho neanche la macchina in mano ancora. Devo svegliarmi bene a livello psicologico, a livello mentale, a livello fisico. Quindi ho mai detto i 20, prima un buon caffè, regola importante, oppure succo di frutta se sei dei winner. L'idea di oggi per fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, a fare degli scatti attraverso i riflessi delle vetrate. Per questo sono venuto in centro perché c'è diverse vetrine, diversi barco, i vetri. Oh, Firenze! Tipico! Firenze, beautiful! Italy, mangiare, vine rossi. È tutto aperto ragazzi, quindi non so se possiamo utilizzarlo. Sempre imprevisti, cerchiamo un posto alternativo. Non conosci Piazza della Passera? Qual è Piazza della Passera? Un momentino non conosci Piazza della Passera. Qual è Piazza della Passera? Sono i veri winner quando ho Piazza della Passera. Ma cosa c'è in Piazza della Passera? C'è un bar! Passere! Inizio già a nervosirmi, è che non riesco a trovare un posto. Comunque il tempo stringe, non è che il tempo è limitato, unlimited. Quindi bisogna riuscire a trovare il posto dove fare questi scatti. Ora facciamo il posto numero due dove magari ci fanno riprendere. Ci sono anche le vetraghe e vediamo. Location numero due, anche questa qui è chiusa, cioè è aperta ragazzi. Perché fa caldo e quindi tengano tutto aperto. Quindi va scoperto un po' dove non si possano aprire le finestre. Ma ci troviamo a Firenze, negli antichi vicoli di Firenze dove si dice che un fotografo non riesce a passare da questa porta. L'antico albergo sorge nelle antiche rovine di Firenze. Andiamo a conoscere l'ospite. Un'antica receptionist si nasconde all'interno dell'hotel di Firenze. Allora cambio di programma, facciamo qualche scatto qui dove questa piazzetta, questo vicolo è veramente wild, veramente ispirante. Quindi per ora mettiamo in pausa la missione Scatti per riflessi, sperando di trovare qualcosa qui vicino. Intanto facciamo qualche scatto qui in questo ambiente wild. Qual è la parola chiave del fotografo? Sono te e vento? Coffee dance. No 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 no. Piazza della passera. No 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 no. Inizia per i. Che vuoi parola chiave del, dammi un indizio. Finisce per o. Invece per produrre, questo cane può fatturare. Ma è una cosa davvero da ridere? È vera. Imo. Imprevisto. Ah. Perché sempre imprevisti ci sono ragazzi per noi. Quindi bisogna riuscire a schivarli, a driblarli come Ronaldo. Devi essere un po' anche un calciatore nella tua vita. No no no. Il pronome del calcio. Questa è la giusta stessa. E ora vediamo le alternative quali possono essere. Innanzitutto osservare questo ambiente qui. Quindi fare anche scatto qui. E poi se ce la facciamo raggiungere anche la missione dello scatto per il plesso. 1, 2, 3, go! Sto giocando un po' di tavolo. Table game. Table game sarebbe sfruttare queste linee che fa il tavolo. La cosa positiva, my friends, è che c'è una luce più morbida qui. Che viene attutita dalla corte. Quindi non è dura ma soft. Perché stavolta già ci fa star bene. Che fa con New York City? Sono bastanti rossi liquidi. Giallo e viola. Compliance Marie game. Froh! Peccato che non potete sentire quello che sto sentendo io. Invece è un party. Ragazzi vi faccio un piccolo sceno storico anch'io. Nel mio breve periodo di vita che ho fatto il postino mi mandarono a portare la posta qui in questo mercato. Solo che non ci sono i nomi scritti. E quindi impazzii letteralmente mettere i nomi. Perché poi erano tutti i nomi stranieri. Quindi passai tutta la mattina a trovare i nomi per dentro. Per consegnare dei pacchi. Poi non manca capito tutti questi nostri giuglieri si attaccati insieme. Ne quanti giuglieri venderanno mai. Ah ma è una cosa di marchiti. Speriamo. Che conviene che i negozi uguali siano vicini. In questo modo attirano quel tipo di cliente. E così lavorano un po' tutti. Ah. Rispetto ad essere da soli. Grazie delle mie. Ringrazio a Bottemaglio. Grazie Bottemaglio. Sento come se a livello artistico ho un po' spremuto il centro di Firenze. Ho fatto talmente tanti scatti in questi anni che non so proprio più dove andare. Ma forse Piazza della Pasta ci darà dei nuovi spunti. Vediamo. Oh, finalmente Piazza della Pasta. Benvenuto in Piazza della Pasta. Ma non mi sembra. Eh ma non mi farai intendere. Ah. Non è solo il nome di una piazza. È il nome. Piazza della Piazza della Piazza della Piazza della Piazza. Allora magari più tardi li troviamo. Intanto proviamo a sperimentare questo environment. Idratassi prima di scattare. Grazie. La mia idea è usare questo tetto. Parla come magico. Parla come magico. Parla come magico. Let's try, let's try. Sto allenando i miei inglesi. Tra un po' apro il canale americano. È giusto. Dobbiamo arrivare oltre il cenaro. Neanche quando si srivela studi così. Quando si srivela. Non è in situazione. Ah. Non mi frega niente. Natalizia. Sfruttate quella luce. Ah. Mi sembra qualche props ragazzi. È un libro. Tra gli piccoli è un libro amore. Ah. Cool. Ehi tutti ragazzi. Ehi. Parliamoci che rettondo ragazzi. In questo tipo di scatti bisogna per forza avere i soggetti equidistanti rispetto alla macchina. Se vogliamo lavorare con un diaframma molto aperto come era i show 1.4 e quindi devono essere equidistanti. Se no uno dei due sarà sfocato. Vedi che ragazzi è una situazione accogliente e quindi trasmette la situazione, due amici che leggono e c'è questa situazione molto calda anche di temperatura qui per noi, in questo modo essendo equidistanti sfruttando questo tavolo, queste linee dietro delle luci sfotate che fanno star bene, questa qui può essere la ricetta vincente, ma buon momento puoi uscire dal personaggio. Ma è appassionato, stavo leggendo la vita reale. Io imparare per fare le decorazioni in fondo, in fondo. La carta incredibile i ragazzi, meglio andarvi adatto, e comunque lo scatto ce l'ho, shot, get your shot and go away. Dovrebbe essere interessante, in più vita qui. Metti la cara a sedere un libro umano e lo legge, gliela fai da qui. Ehm, è asciutto. È qualcosa di inusuale rispetto al mio stile, infatti si vedete che il c'è la tua idea, però è un po' qualcosa di astratto quasi. Bello, bello, bello. Sti colori. Bello. Mamma mia! La mente e il corpo. Ah qui sai che c'è? Un quartiere di artigiani, artisti. Qui c'è uno che fa tutte delle luci, tutte a stella, come c'è da sopra, guarda. Il tuo poltrono che si fa, artigiani della qualità. Yo, quante luci qui ragazzi, I love vetrine. Fai due passi avanti, fai una giravolta, fai un'altra volta, guarda in su, guarda in giù, e adesso scatto. A chi vuoi? A miserventù. Perché se hai giocato bene con il colore dei capelli, fa star bene questa luci. Gioca. Muore! Scema minza. Sì, però così ho la mani tagliata, devo trovare la giusta formula, che voglio fare un po' dal basso. Così. E ridi. E ridi. Ridi. Si strappaola mia. Si strappaola micchia. Si strappaola micchia fai coglione. No. Fai il cazzaro di si strappaola micchia. Scema minza. Scema minza. Chiara, scusa la sensualità, ma così si faccia una ricolare. Alla fine mi ha spaccato il culo Senti nobile così? E' pieno di lampadare Imprevisti, 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 imprevisti Ragazzi un consiglio per tutti i winner là fuori Non abbattevi se partite con un'idea E poi magari si deve trasformare in un'altra Perché ci sono degli imprevisti Come vi ho detto questo video è all'insegnare gli imprevisti Perché ero uno qui pensando di trovare la vetrata Perché so che qui è tutta vetrata Invece l'imprevisto è che il numero 1 è aperto Numero 2 ci sono tutte le locandine attaccare Quindi non si può fare gli scatti Quindi a questo punto farò degli scatti diversi Vedete andando sempre in giro Qualche cosa si trova sempre Qualche spunto, qualche luce My friends voglio fare un gioco di caldo freddo Quindi giocare un contrasto caldo freddo Vedete qui c'è la parete fredda E poi ho acceso la luce così che fa una cosa calda The goal is to non far vedere la locandina Il fuori Fa cercare di creare l'atmosfera Non far capire tutto il caos che c'è fuori Se liberate il posto qui alla vetrina dove volevo scattare inizialmente Aspettiamo che arrivi la Chiara Vediamo se riesco a fare qualche scatto interessante L'idea è di fare un po' di riflessi sopra E poi far vedere tutte le luci qui dietro E casca il vento Fare questo tipo di scatti presenta i seguenti problemi Numero 1 bisogna capire cosa c'è il riflesso nello specchio Quindi ad esempio se qui ora c'è riflesso dalla macchina È un problema Quindi bisogna aspettare che ci sia il riflesso giusto e interessante Cosa cosa non si può controllare in parte Perché lo sfondo è quello che è Inoltre anche ciò che c'è dietro Inoltre riuscire a mettere a fuoco Perché l'autofocus non capisce bene quando c'è il vetro Quindi bisogna riuscire a stare attenti Che i soggetti siano messi a fuoco E fare un bel gioco di riflesso Vediamo se ce la può E occhio anche che non vengo riflesso io nel vetro Vedete ragazzi Tipo ora c'è il bus E quindi si vede il bus Sarebbe bellino farlo tipo con delle tazze di caffè Però insomma abbiamo già speso una fortuna Tra tutti i suoi bar che si aggirava Quindi ora basta Però creare una situazione sempre importante È che se mi metto frontale si vede in me Quindi devo stare attento e non mi si vede Proviamo vari punti di vista ragazzi Vediamo che è più interessante Purtroppo non si può controllare lo sfondo C'è quello lì che dà fastidio C'è quel furgone lì che dà fastidio Mi raccomando non scoraggiarevi mai Perché alla fine c'è sempre la vittoria Se sei un vero winner tenace Cerchi sempre di raggiungere l'obiettivo In questo caso di raggiungere i riflessi Quindi ora facciamo un cambio di situazione Di scena Salutiamo Tazi Grazie se è un fenomeno Seguitelo su Instagram Link in descrizione Quindi a dopo ragazzi Yo cambio di camera my friends Ok ci avviamo verso la stazione Perché io e il vento andiamo in un posto Magico Che i fan più sfegatati conoscono il posto Dopo lo vedrete Amore che dove vai today? A Danza A Danza Spero di essere riuscito a fare qualcosa di valido E adesso però la mia missione È attuare di nuovo i pantaloni Perché mi si sono sminchiati my friends Non lo sapete troppo Oh in realtà non siete mica le palle Con le mutande Why? 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 Chiara perché non fai le avventure di waterquieta come tu? Perché fa domande scomode Non fare domande scomode grazie Non fare domande scomode grazie Non fare domande scomode Oh Oh Beh 2016 Ok 2016 Troppo ti vorrei che scontro qui Ah sono qui le spade Occhiali di aviatone Oh Oh Yo Oh Magico Sono qui Sono Matteo Vittore Sì 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 Che cos'è? Ah la fattima Slime Sì Oh 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 Love, always, always love. No, no, no. Che schifo. Amore. Ragazzi, addio Florence. Si riparte. Oh, yes. Oh. Saluti, from Florence. Tuscana, Italia. Italia, Chianti. Chianti, Chianti, Chianti. Chianti, Chianti, Chianti. Chianti, Chianti, Chianti. Chianti, Chianti, Chianti. Ho detto che sì. I catch you, Chianti. Ragazzi, we are back. Back in town. E ho trovato una sorpresa. Quindi voglio andare a scoprirla insieme. È arrivato un pacco. Cos'è da dentro? I don't know. Una pianola. Una tavoletta grafica, ragazzi. Della Quillon. Inspiroa. Questa me l'ha avviata a questa azienda per farci una recensione, my friends. Quindi direi che ci farò una recensione ai prossimi giorni. Ragazzi, questa è super pro. Toccare qui, senti luxury. Che è sta cosa? Quanto? Sembra interessante, ragazzi. I prossimi giorni vedremo. Tavoletta. 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 Come i vecchi. Tavoletta. Uova. Latte. Tavoletta. C'è già una review. Tavoletta. 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 Allora, stiamo andando alla scuola di musica, di canto di vento. Deve fare un po' di pratica questo ragazzo. Session today. Session. Practice. Practice makes perfection, my friends. Devo portare alcuna stampa a Matteo, il boss della Music Academy, che è l'accademia dove abbiamo fatto il workshop. Art Music Academy. Imprenditore Time. Con l'occasione mi guardo anche la lezione del vento e vi porto anche a voi, ragazzi, a vedere cosa fa il vento veramente. Oltre ad essere team vento, in realtà poi lui è il fenomeno della musica, del canto. Il fenomeno. Ma forse non lo so. Ma la nuova canzone quando arriva? Troppo curioso. Primacy. Qui davanti l'altra settimana al workshop c'era ragazzi già dalle 10, già c'erano tutti i ragazzi sui marciapiedi a aspettare, poi tipo l'avevo fatto entrare dentro. Tornare qui ora, dopo qualche settimana mi ritorna in mente quel giorno lì, quelle emozioni, quell'ansia. Ehm... Mi spiace a sbagliare il video, scusa eh, sbagliato Sono un uomo, un uomo in cerca di se stesso Oggi non sono andato a fare tutto Avevo un po' di problemini alla go, un po' di pizzicolini L'ho fatto stancare stamattina Essere in questa macchina con te, vento, mi fa sentire quasi un nuovo viaggio on the road Sì, eh Chissà, chissà, forse nell'aria c'è un viaggio, chi lo sa, my friends Stamacchina davamente good vibes Il video finisce qui, mi raccomando, lasciate un like, un commento per far sapere le vostre opinioni E soprattutto, se ancora non siete iscritti al canale, avete visto il video fin qui Cazzo fai, iscrivetelo Se avete visto il video fin qui e non siete ancora iscritti, avete dei problemi seri, my friend Io vi saluto, ci siete nei prossimi giorni con un nuovo video